funziona speriamo allora buongiorno a tutti oggi venerdì 5 novembre 2021 sono qui fermo fuori montefiorino fuori fuori un bel posto comune comunque di montefiorino località la piana sarebbe dove ho scaricato il secondo ultimo scarico d'alluminio adesso ne ho da fare uno a serra amazzoni fuori serra amazzoni e uno a pavullo nel frignano solito giro modena alta dell'alluminio oggi però invece di far filmare tutto il giro che tanto più o meno si sa le ditte non sono sempre le stesse però bene o male il concetto è quello stavo oggi faccio soltanto la strada che da qua dalla valle del secchia va a serra amazzoni per poi arrivare alla statale della betone che poi anche lì vicino c'è lo scarico di sarra amazzoni perché è una strada che non ho fatto quando avevo fatto il filmato del modena alta però l'ho fatta dopo e siccome merita ho deciso che per lei come avevo già detto come ho scritto più che detto scritto nei commenti al filmatino del modena alta quella strada lì si meritava un video a parte e infatti oggi è il giorno in cui farò questo video a parte tra le altre cose oggi è anche il giorno del mio 59esimo compleanno ma questo è una notiziola così un passante ciao poi dopo 45 minuti finiti andiamo a fare gli ultimi due scarichi del giro quello di sarra amazzoni e quello di pavulla nel frignano la strada questa qui è la statale del passo delle radici che adesso però prendiamo ad andare verso la pianura anche perché questo è uno dei pochi posti dove puoi solpassare vedendo davanti a te che cosa c'è gli altri sono tutti curva contro curva e perciò quando sarpassi vai alla cieca il camion ha obbligo di catena vabbè io ho le gomme invernali fa lo stesso direi di sì aperto gomme invernali oi 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 Grazie a tutti. 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 Di più, obiettivamente, un tratto di strada non ti consente. Sono carico leggero, sono rimasti sopra su una decina di quintali di roba. Non c'è molto, però comunque starla a prendere sportivamente questa strada qua non è il Volvo il mezzo adatto. Grazie a tutti. 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 A destra. Si torna verso Sassuolo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.